Nel centro storico di Pietrasanta in Versiglia c'è una galleria d'arte ogni 40 metri, una sorta di piccolo record italiano. Emilia Rettura La galleria di Paola è qui da quasi 30 anni. Ha scommesso su Pietrasanta quando ancora il mercato dell'arte sembrava si limitasse alla vicina e internazionale forte dei marmi. Oggi il suo spazio espositivo è uno dei 40 del centro storico, un piccolo record che si spiega con un'alchimia di elementi. Tutti questi artisti che vengono da fuori automaticamente si portano dietro gli scrittori, i musicisti, i poeti. Alla storica tradizione della lavorazione del marmo e del bronzo, negli anni Pietrasanta ha aggiunto una proiezione all'arte contemporanea, ispirata dalla presenza qui di artisti come Botero e Mitorai, risultato una media di una galleria ogni 40 metri del suo piccolo centro storico, la più alta concentrazione in Italia. Quello che succede qua è molto difficile da spiegare, è una piccola magia. Pietrasanta è diventato un po' il simbolo dell'arte contemporanea, specialmente in un certo momento dell'anno, ma non solo. L'arte contemporanea è ormai uscita anche dai confini del borgo, con le gallerie che hanno riconvertito vecchie aree artigianali dismesse. Festa del cinema di Roma, oggi il film Fortuna, coprodotto di... Fortuna, coprodotto di... Fortuna, coprodotto di... Grazie a tutti.